HyperCloud Data Center di Aruba è il più grande data center campus di Roma. Progettato per rispondere alle esigenze del settore privato e della pubblica amministrazione e per servire al meglio il centro e sud Italia. L'infrastruttura è interconnessa con gli altri data center del network Aruba e con i principali Internet Exchange Point d'Italia, grazie ad un sistema ultraridondato di collegamenti backbone. Localizzato all'interno del tecnopolo Tiburtino, è ben collegato con le principali vie di comunicazione della capitale. HyperCloud Data Center sorge su un'area di 74.000 m2 e comprenderà a pieno regime 5 edifici data center indipendenti di ultima generazione, progettati e costruiti secondo i massimi criteri di qualità infrastrutturale ed impiantistica ed in grado di ospitare complessivamente 30 MW di carico IT. Il campus è alimentato esclusivamente da energia con provenienza certificata 100% da fonti rinnovabili e tutti gli edifici sfruttano le più moderne e migliori soluzioni per massimizzare l'efficienza e per ridurre al minimo l'impatto ambientale. HyperCloud Data Center è progettato e realizzato per soddisfare i requisiti delle principali certificazioni di affidabilità, sicurezza e qualità dei servizi erogati corrispondenti al rating for ANSITIA 942B 2017. Il Data Center Campus è carrier neutral, con servizi di connettività gestita, collegamenti ridondati in fibra e trasporti dedicati. Massimi livelli di sicurezza logica e fisica con controllo degli accessi e perimetri di controllo multipli. Ogni Data Center è vigilato da Security Operation Center, con perimetri di controllo e sistemi di autenticazione a doppio fattore. Grazie alle sale dati distribuite su tre piani e dalla sua modularità, HyperCloud Data Center permette di offrire servizi di collocation con diverse configurazioni basate sulle esigenze della clientela. Una singola sala dati può raggiungere i mille metri quadrati ed ospitare infrastrutture IT con potenza fino a 2 MW, oppure essere frazionata in unità distinte dotate di accesso indipendente e con una potenza dedicata proporzionale alla superficie IT. I clienti possono richiedere soluzioni personalizzate di progettazioni o migrazioni e infrastruttura con un approccio multicloud anche in modalità completamente gestita. Aruba HyperCloud Data Center Home of your data, heart of your business Home of your data! I am here a bit! chio e tipo E o